Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla statale 7 Quater Domiziana, sino alle ore 17 di lunedì 5 marzo, per lavori di manutenzione ordinaria, troverete la carreggiata ridotta nel tratto compreso tra le località Mondragone e Pesco Pagano, in tutti e due i sensi di percorrenza. Si procede a carreggiata ridotta anche sulla statale 7 bis di terra di lavoro, sino a venerdì 9 marzo, per consentire i lavori di ripavimentazione nel tratto compreso tra Gricignano d'Aversa e Carinaro, in direzione Villaliterno. Da qui ci spostiamo sulla statale 145 Sorrentina, dove a causa di una frana avvenuta la scorsa notte a causa delle cattive condizioni in meteo, si procede a senso unico alternato nel tratto compreso tra Sant'Agata, Sui Due Golfi e Colli di Fontanelle. Sulla tangenziale di Salerno, invece, dalle 22 di questa sera e sino alle ore 6 di domani mattina, per lavori alle barriere di sicurezza, troverete chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Sala, Abagnano e Fratte, in direzione nord. E qui il cantiere potrebbe essere precauzionalmente sospeso la prossima notte relativamente alla compatibilità dei lavori con le condizioni in meteo. E proprio in riferimento al maltempo che in questi giorni ha colpito la regione Campania, ci sono ancora disagi per gli utenti del trasporto pubblico a Napoli. Alcune strade restano impraticabili e per questo motivo alcune autoline ANM sono sospese o deviano il proprio percorso. L'autolinea C76 su Chiaiano modifica il proprio percorso per lavori in via Calori di sopra. Le autolinee C25 e 158 sono al momento sospese, mentre le autolinee C13 e 180 sulla tratta Fuorigrotta-Soccavo-Piscino la deviano il proprio percorso per lavori al manto stradale. Bene, con questo è tutto. Mi fermo qui. Grazie per la cortesia attenzione dalla redazione Muoversi in Campania, Gigi Gallo.